Passaggio di consegne al comando delle forze aeree della Marina Militare Italiana. La cerimonia si è svolta all'aeroporto militare di Grottaglie nel Tarantino alla presenza del comandante in capo della squadra navale, ammiraglio di squadra Filippo Maria Foffi. Cedente il comando, l'ammiraglio di divisione Paolo Treu, a cui subentra il contrammiraglio Giorgio Gomma. Ecco il momento clou del passaggio. Il comando delle forze aeree della Marina è stato costituito il primo gennaio del 2000 e rappresenta la sintesi di un lungo percorso iniziato nel 1913 con la nascita dell'aviazione navale ed è il risultato di una radicale riorganizzazione e razionalizzazione che ha consentito di raggiungere livelli operativi e tecnici elevatissimi riconosciuti a livello internazionale. Dal comando dipendono le basi di Catania, Grottaglie e pratica di mare.